Dopo domenica ci siamo parecchio divertiti con Cigliani e Benfatto, sta arrivando un Cigliani correndo. Oggi sono qui con Andrea Benevelli e con Simo Leonardon. Dopo questa vittoria cominciamo a fare le interviste in due perché... Scusate, per favore girati e parti da lui. Rifallo, se hai coraggio lo rifai. Dai, rifallo! Fallo, fallo! No, non stavi facendo questo. Rifallo un'altra volta. Fallo? Ah sì, rifallo scherzo, appena ci giriamo. Bene, girati, girati. Stop, ricominciamo.